Per evitare di trasformare una giornata al lago in tragedia, l'autorità di Baccino, la quale Ceresio, Piano e Ghirla, ha pubblicato anche quest'anno in italiano e in inglese un vademecum rivolto a tutti coloro che scelgono il Ceresio per trascorrere qualche ora di relax. Tra le raccomandazioni principali, che valgono per tutti i bacini lacustri, il vademecum sottolinea l'importanza di fare il bagno in compagnia, in quanto è sempre meglio nuotare con un amico per evitare di trovarsi da soli in caso di difficoltà. Ma anche evitare lunghe distanze in solitaria, non allontanarsi dalla zona di sicurezza per la balneazione delimitata dalle boe e dalle ghirlande e usare materassini gonfiabili con prudenza e non andare distanti dalla spiaggia oltre 50 metri, specialmente quando il vento ospira da terra. Infine, ma non ultimo, consultare le disposizioni in materia prima di fare il bagno e controllare le condizioni meteo previste in zona.